Ciao, sul sito di Alias Cosmetics sono arrivate le punte Scimax. Oggi ti mostro una punta da rimozione in carburo di tungxeno fascia nera adatta sia per gel, acrygel ed acrilico. È consigliata soprattutto con chi ha dimestichezza con punte ad alta abrasività. In questo video, in velocità reale, utilizzo la massima potenza del micromotore dall'alto verso il basso per eliminare velocemente il prodotto. Abbasso il giro cuticola, accorcio l'unghia naturale, assolutamente non crea calore, non vibra, è sterilizzabile ed è duratura nel tempo.